Nel anno 1895, Tula ha la sua ruta per la libertà e l'azione di Tula è stata inspirata per la luce per la libertà di Haiti. Nel programma di oggi, Nifa Anzano è stata inspirata per la nostra ruta per la nostra esperienza, per vedere la nostra ruta per la luce per la tula e per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la luce per la libertà di Haiti. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie di Giron Hovel, che ha mostrato il tipo di persona. Nel 5 edizione, Nifa ha subito una serie negra per la loro vita per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita per la loro vita per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro vita. Nel 5 edizione Nifa ha subito una serie negra per la loro vita 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 per la loro vita. Nel 6 edizione Nifer asuniversità di 냄새 per la loro vita per la loro vita per la loro vita per la loro nuova vita per la loro vita per la loro vita. Sì, di fatto è stato molto bello per il mondo. Com'è stato molto bello per il mondo? Beh, ho visto che io, mio padre, mi piace di piscare, mi piace di piscare, mi abuela anche, è stato bello per il mondo, è stato un tipo di obiettivo per la plantazione di Santa Catarina. Ok. E poi, dopo la pensione, mi piace di piscare, mi piace di piscare il mondo. Ok. Quindi, praticamente, la gran parte della infanzia è passata nel mondo. Correcto. Che cosa ti piace di piscare il mondo? E' stato un po' di rispare il mondo. 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 Quindi, quando il mondo, per esempio, mi sentiamo completamente sicuro. che cosa ti piace di piscare il mondo? Quindi quali e che cosa ti piace di piscare? Ci sono stata un po' di rispare. Sì, quando il mondo, si piacciono un po' di rispare il mondo. Però, quando mi hanno fatto un po' di rispareare più grandi, in questo modo, mi hanno fatto un po' di rispare per il mondo. quindi abbiamo fatto un lavoro e abbiamo fatto un buon bambino e abbiamo analizzato il comasso di robesca e abbiamo fatto un po' di più e abbiamo fatto un po' di più Lorenzo, ora per farlo per farlo Quindi, mi immaginavo, che cattivo di lui, corriendo per la vita e luchando per essere un esclavo. Che ci sono? Non so. Questo è quello che ho sentito, quando la libertà ha avuto. e l'agra mi sento che non mi compara con un cattivo come ti compara con un cattivo? non so se mi ha fatto che non mi compara con un cattivo ora che per esempio un don è trabò trattami malo avendia non mi sembra di usare un cattivo non so se non mi compara con un cattivo? non so se non mi compara con un cattivo e come non? perché ho la libertà per andare con un cattivo e ora come se non mi compara con un cattivo e cattivo, fisicamente e spiritualmente non so se non pensi cosa che voglio ok la parte del valore per la libertà c'è un sentimento che sta andando se che ora può immaginare il romano e corriendo per alcanza la libertà? non so se non mi compara con un cattivo ora che c'è la desesperazione che non mi senti che non mi senti per motivo che non sa che nel momento è che la battaglia è stata perdita che non c'è un po' di più non so se non mi senti 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 ma cosa che è la desesperazione ok che cosa è la desesperazione? non so se non mi senti la desesperazione è ora quando non mi senti non so se 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 non mi senti in questa situazione non so se non mi senti come si pone anche l'uente disespera. Ok. In questo caso, come dottorempio, haiti, lo che è passato ultimo, mi ha detto che la situazione di Asina aveva una parola nulandesa che si pone l'uente disesperazione. Per Asina è messa, se l'uente è un livello spirituale è abbastanza alto, e può scoprire per l'uente di influenzare. Francesco, cosa faccio? Ho usato un po' di lele, e ho usato un po' di corte. Come ho usato un po' di corte? Ho usato tre punti, e ho usato un po' di lele, e ho usato un po' di lele, e ho usato un po' di lele. no! Come si poteva un po' di lele, e ho usato un po' di lele. Si si, vedi a loro. Doro ne vedi lele che si usa nelle lele? E ho usato un po' di nuvole. E ho usato un po' di lele. In questo tipo? Sì. Grazie. In questo caso mettiamo un scherzo un po' più facile. E sa che non è frutta? Sì, sa che non è pari. E chi? Sì, in Parigi. La frutta. La frutta non si può fare. La frutta non si può fare. La frutta non si può fare in Parigi. Oh, ok. In Parigi viene madre. Sì. La frutta non si può fare. La frutta non si può fare. In questo caso non? Non, non? Non, non. Non, non. La frutta non si può fare. 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 Ok. La frutta non si può fare. 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 se c'è una informazione di una forma o altra? Sì, 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 sì. E come ti senti? Di una diversa maniera. Oggi si ritrovano, in un'altra misura, continuamente per i diversi turni all'intera l'isla. Abbiamo anche in Microsoft, abbiamo anche in Microsoft. Abbiamo trovato un programma per la scuola. L'ultimo giorno abbiamo prodotto un video con i diversi programmi di natura, per la vita. Abbiamo fatto una fondazione per l'innovazione di insegnanza. Abbiamo trovato un video per l'utilizzo di insegnanza di food dish. Ok. E questo è il mio hobby? No, questo è il mio hobby. Come un hobby? E questo è il mio diario? Il mio diario è in una isla. E non c'è un contrasto grande tra l'isla, con la poluzione, con un ruolo di naturalezza? All'innovazione di insegnanza e più sbagliata. Ma ci sono un po' di insegnanza. E questo è tutto. Non è questo. All'innovazione. E ci sono emozziati perché in un ruolo di insegnanza. E ci sono. Un ruolo di insegnanza. Non mi sembra male, ma mi raccomando se non mi sembrava. E' un'espressione che mi guarda, che mi sembrava un sentimento mixto. E' un'espressione che mi sembrava che sia male per la naturalezza, a pensare che mi stima la naturalezza, ma non mi piace. E' questa quadra? Si, mi piace, è tutto. E' un'espressione che mi piace. E' un'espressione che mi piace. E' un'espressione che mi sembrava. E' un processo di chimica, naturalezza. Questo è un processo natural che ha bisogno di un esforzo mentale per fare un lavoro. Mi scusco il processo che ho avuto fatto di riparare i piedi e riuscire. Mi scusco. ecco, il ha detto l'esercito, un paese, un paese, un paese, un paese, un paese. L'esercito, un po' a me ma ho detto, il paese, un paese, un paese, un paese. La differenza è la isla che è un processo per l'Italia, con un momento la mia è stata 100% In questo modo si è recritto per planare ogni stanza per fare un lavoro, per planare di avanti. In questo caso di fare un'altra trattazione, non ci sono alcune persone che hanno attenzione. In questo caso, per planare il mondo? In questo mondo è più spontaneo. www.mesmerism.info 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 è un tavolo bergetto, come direttamente la plata arriva e se vogliono, è un siggio ed è un bannino di Christoffel e questo tipo di rinforzamento molto probabilmente non può passare la cruza di Binjacibana e non può passare la pia di San Hieronimo per dargli il Christoffel Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Passare all'inimamento e l'anima per mantenere l'espirito alto. Un'altra parola. Un'altra parola. Un'altra parola. Un'altra parola di cinque parola. Non ho pensato che... non ci sono tantissime per mostrare... che cammino. E' agitante. Non c'è qualcosa di più di più di più di più di più di più. Non c'è qualcosa di più. Vi mostro a noi che cammini... per la independenza. interna. Ok. Grazie per mostrare il cammino per la independenza interna. Si. Wow. Grazie. Fransel. Grazie. 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 Questo è un po' di sabedoria, mi asco è la planta di bau di tranché, il motivo che il bau di tranché è per proteggere il controllo il vento e la sombra parte a tardi, se non si tratta di soli, si tratta di condizionare la crescita che sia ottimale. Quindi, se non si tratta di sabedoria per abondare la gente, cosa ti costa per aver guardato? La gente si tratta di un factor di debilità spiritualmente, che si tratta di un fatto che non si tratta di un po' di più, ma non si tratta di un po' di più. Per avere la sabedoria di questo caso? Correcto. Ok, great. Questa è la fine dell'arizamento che mi piaceva. Questa è la fine del mercato di Fertraigna. Questa è la fine del mercato che mi piaceva. Questa è la fine del mercato di Fertraigna che ha fatto. Il momento che la organizazione controlla il processo di produzione di una fabbrica che tratta il prodotto e riparare la libera esclavitud moderna. Nel momento in che la organizazione controlla il processo di produzione di una fabbrica che tratta il moderno. A parte di essenza, il libro di Miriam Sluis Zoutriff, un libro di quattro anni di storia che tratta Zoutriff. Segui il nostro canale, il nostro canale, il nostro canale, e il nostro canale, e il nostro canale, e il nostro canale, e il nostro canale. Grazie a tutti, ma sicuramente. Segui, sicuramente, che ci sono stati spostati e quindi, ci sono stati fondamentali. Quindi, in realtà, abbiamo bisogno di esclavitudine per il nostro canale, Bistana, Africano, Sudamerica, India